Proseguono gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Monte Catini Terme sulla linea Firenze-Pistoia-Via Reggio. Per consentire l'operatività dei cantieri sarà sospesa la circolazione dei treni tra Pistoia e Monte Catini Terme dalle ore 15 di domani, sabato 15 e per tutta la giornata di domenica 16 aprile. Tra le due località sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus e via autostrada A11 che non effettuerà fermate intermedie. Nello specifico i lavori riguardano la realizzazione delle opere lungo la linea come le barriere antirumore nei comuni di Pistoia e di Pieveanievole. Proseguono inoltre i lavori di scavo e costruzione della nuova galleria di Serravalle Pistoiese. Le attività di cantiere interesseranno la nuova viabilità nei comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese e Pieveanievole e le opere idrauliche connesse a salvaguardia dei torrenti Stella, Tazzera, Mandrione e Bellintona, Tegolaia, Nievolina. Continua anche la realizzazione degli impianti di trazione elettrica e di segnalamento del nuovo binario. Saranno circa 100 le maestranze di rete ferroviaria italiana e delle ditte appaltatrici impegnate ogni giorno nella fine settimana con 50 mezzi d'opera nei diversi cantieri fissi e mobili.